Due parole prima di passare ovviamente la relazione al nostro Presidente, al mio Presidente, onoratissimo poi di poter moderare il mio Presidente chiaramente, ma se l'avessi pensato 26 anni fa quando ho iniziato a fare il biologo nutrizionista, ne parlavamo prima con tanti giovani che sono qui presenti, insomma dire che oggi sarei stato qui dopo 26 anni a celebrare una giornata così importante che deve essere però un punto di partenza, perché quello di oggi anche nelle parole che diceva il Sindaco è un punto di partenza per noi biologi nutrizionisti. In questi tre anni come ordine effettivamente abbiamo fatto tantissimo per promuovere la nostra categoria professionale, abbiamo cercato di toccare tutte le tappe più importanti anche delle azioni del nostro governo che ha fatto in Italia, ricordiamoci di Expo, la nostra presenza Expo che è stata importante, fondamentale con un congresso di quattro giorni, con una presenza in uno stand di 15 giorni che ha costato non pochi sforzi al nostro ordine, con la presenza poi al Salone Internazionale di Bologna sul biologico e su riprendere le tradizioni, quella dell'agricoltura italiana e poi come sapete anche tutte le nostre conferenze sulla nutrizione che abbiamo fatto nel corso di questi anni e siamo arrivati anche ad un punto fondamentale, quello di mettere in campo finalmente anche una difesa dei nostri diritti professionali. Conoscete tutti quanti ormai la nostra campagna contro l'abusivismo perché anche questo è un tema molto importante e a che a noi tocca tantissimo. Proprio per questo abbiamo creato una sinergia con i NAS e in particolare con il generale comandante dei NAS di Roma, dal quale siamo stati 15 giorni fa insieme al Presidente e ci ritorneremo la settimana prossima, con il quale abbiamo condiviso un programma molto importante con il quale cercheremo anche di tutelare quelli che sono i nostri diritti. E poi un'ultima notizia di carattere scientifico, la voglio dare ed è importante perché la dieta mediterranea deve essere ed è soprattutto un primo momento di prevenzione. Io che in particolare per professione in NAS mi occupo di prevenzione nutrizionale, in particolare di prevenzione dell'obesità infantile e sappiamo quanti sono i bambini obesi nella nostra nazione Italia e come poi proprio in Regione Campania che dovrebbe essere la patria del mangiare sano e dello stile di vita sano abbiamo la prevalenza di bambini obesi più alti d'Italia, anzi più alti d'Europa. Il 20% dei nostri bambini sono in una condizione di obesità e un 30 quasi per cento in una condizione di sovrappeso. Ma quello che invece è curioso è che ho letto l'altro giorno e penso forse molti di voi lo conosceranno e l'ultimo lavoro pubblicato su Lancet, sapete la nostra rivista di riferimento internazionale nel quale è stato presentato uno studio interessantissimo sull'obesità degli adulti analizzando i dati di oltre 200 paesi nel mondo che va dal 1974 fino al 2014. Che cosa è successo in questi anni? Non vi voglio tediare con tutta la letteratura i dati internazionali ma guardiamo quello che è successo in Italia. In Italia oggi abbiamo un 21% di persone adulte che sono in una condizione di obesità e che tradotto in numeri significa 6 milioni e 800 mila donne che sono in una condizione di obesità e 5 milioni e 800 mila uomini che sono in condizioni di obesità. Sono dei dati mostruosi ai quali dobbiamo aggiungere anche gli individui che sono in una condizione disorappeso. Ma la cosa ancora che mi ha destato molto interesse è il trend che c'è stato in questi anni. Siamo passati da una prevalenza di obesità del 6% dal 1974 e siamo arrivati ai giorni d'oggi del 2014 a un 21% e a livello internazionale, a livello mondiale l'obesità si è triplicata. Bene, la dieta mediterranea deve essere il nostro cavallo di battaglia anche per fare prevenzione per l'obesità. Quindi stile di vita, dieta mediterranea devono essere i principali cardini della nostra attività professionale e che tutti noi dobbiamo non solo utilizzare nella nostra pratica quotidiana, nei nostri ambulatori, nei nostri studi per fare prevenzione, ma deve essere anche un motivo di lancio e di sviluppo per tanti giovani colleghi che si vogliono poi avvicinare al mondo della nutrizione.